Salve a tutti ragazzi, sono Zetawillix, ed oggi sono qui con un nuovo video di GTA V in cui vi parlerò della patch 1.10. In questo video però non vedete i contenuti della strategia di San Valentino per il semplice fatto che molto probabilmente questi contenuti diventeranno gratuiti il giorno di San Valentino. Ed io questo video lo sto facendo il giorno prima di San Valentino, quando tutti i contenuti della strategia di San Valentino sono tuttora a pagamento. E per a pagamento intendo soldi di GTA Online e non di GTA V. Comunque sia se domani scopro che questi contenuti sono ugualmente a pagamento il video lo farò comunque, però per sicurezza aspetto e vedrò se diventeranno gratuiti perché ad esempio la macchina costa davvero tanto. Cominciamo subito con i video e la più grande novità di questa patch è la Rat Loader. La potete acquistare gratuitamente nel sito Sufern San Andreas, una volta acquistato ovviamente sarà nel vostro garage, non dico proprio acquistato perché comunque sia gratuita. Quando sarà nel vostro garage la potete ovviamente potenziare, tutti e ripeto tutti i potenziamenti sono gratuiti, tutte le verniciature, tutti gli oggetti che potenziano la velocità del vostro veicolo come anche l'armatura e i freni. Praticamente tutto, tutti i potenziamenti di quest'auto sono gratis. Parlando di altre novità sui veicoli, il veicolo Canis Seminole è adesso parcheggiabile nel vostro garage, mentre il veicolo della Meriwether dei mercenari adesso non si potrà più vendere, però comunque sia sarà sempre assicurabile e parcheggiabile nel vostro garage. Un'altra grande novità di questa patch è che adesso tutti i veicoli rubati per strada hanno un valore totale di 10.000 dollari. Se ad esempio rubate una Vapid Dominator alla potenziata al massimo, questa valerà comunque 10.000 dollari, nonostante nelle patch precedenti valeva 118.000 dollari. Adesso questa regola è stata impostata a tutti i veicoli che trovate per strada, ed anche alla macchina personale di Franklin Clinton. Invece per quanto riguarda la macchina di Michael DeSanta, questa è ancora vendibile ad un prezzo altissimo se potenziato ovviamente al massimo. Nella patch 1.10 hanno anche aggiunto nell'inventare l'opzione priorità d'attacco agli amici, che potete impostarla standard oppure a bassa. Se la impostate a bassa, praticamente il vostro personaggio non utilizzerà l'automira su un vostro qualsiasi amico quando giocherete in free mode. Il fuoco amico però sarà comunque attivo. Se non sbaglio, però, se due amici si impostano questa opzione su bassa, questi se si sparano a vicenda non subiscono alcun danno, però di ciò non ne sono sicuro. Comunque sia, si tratta sempre di un'opzione abbastanza utile. Nella valutazione dell'attività hanno poi aggiunto le icone sulle attività, quindi capirete di che attività si tratta appunto tramite queste icone. Se chiamate il meccanico per richiedere un veicolo, praticamente il meccanico al posto di consegnarvi davanti a voi il veicolo, ve lo lascerà parcheggiato su un punto che vedrete sul radar. Se impostate la modalità passiva e vi uccidono in modalità passiva, i vostri nemici dovranno pagare le cure mediche, quindi voi non perderete alcun denaro quando vi uccidono in modalità passiva. Infine hanno aggiunto due opzioni di rientro, oltre che avere ultima posizione e proprietà. Hanno aggiunto garage e random. Random praticamente sarebbe che quando accedete a GTA Online il vostro personaggio si sponerà in un punto casuale della mappa. Poi quando ho completato una missione, praticamente questa missione verrà salvata nel menu di attività ed infine hanno aggiunto la conferma nell'opzione acquista tutte le munizioni, che sarebbe il pulsante che compare prima che cominciate un'attività qualsiasi in cui si spara. Le informazioni che ho trattato in questo video, come anche glitch funzionanti della patch 1.10 che ho caricato precedentemente sul mio canale, le potrete trovare in descrizione. Detto questo, per favore lasciate un mi piace. Ci vuole solamente due secondi a cliccare quel bottone blu. Lasciate un mi piace alla pagina Facebook se vi va, la trovate in descrizione. Commentate se avete domande, dubbi, richieste, cercherò di rispondere il più velocemente possibile e discriveretevi per altri contenuti di GTA V. Da ZWX è tutto, al prossimo video!